Nell'analisi meteorologica del mese di febbraio, redatta dall'ARPAV, si evidenziano un clima più freddo del normale e soprattutto in quota meno soleggiato ma anche meno piovoso-nevoso. L'ultimo mese dell'inverno meteorologico, dunque, ha presentato caratteristiche decisamente ancora invernali, dopo un gennaio interlocutorio e un dicembre dalle copiose precipitazioni. Le temperature medie mensili sono state da 0 a 1 grado inferiori alla norma a Fondovalle mentre in quota, fatto più freddo e lo scarto negativo, è di 3 gradi. Per ritrovare un gelo così intenso come quello della fine del mese si deve ritornare al 2005. Le precipitazioni totali mensili sono state più scarse ma la frequenza è stata curiosamente normale. Di questo mese si ricorderanno in particolare le temperature minime del giorno 15 con i meno 17 di Santo Stefano di Cadore e i meno 22 di Cimabanche e ancora le temperature di 10-15 gradi inferiori alla norma dei giorni 26-27-28 con minime assolute di 29.9 sotto lo 0 sulla marmolada e i meno 21 di Sappada. Nel complesso vi sono stati 8 giorni soleggiati, 15 nuvolosi o variabili e 5 di maltempo.